Ciao, sono Vittoria e studio scienze naturali, geologiche e ambientali all'Università del Sagno. Se hai a cuore la tutela del territorio e della biodiversità e se ami la ricerca in ambito geologico e naturalistico, questo percorso è quello che fa per te. Molto interdisciplinare, tratta di argomenti che spaziano dalla chimica alla geologia, dall'ecologia alla botanica e le lezioni in aula sono alternate a numerosissime attività pratiche di laboratorio e di campo. Questo percorso mi permetterà di dare il mio contributo alle sfide del nostro futuro in chiave ecosostenibile. I temi che riguardano i rischi geologici e ambientali sono sempre più vicini a noi, come anche la conservazione degli ecosistemi e delle risorse naturali, minacciati da attività antropiche e da pericolosità naturali. Il benessere del nostro pianeta passa dalla conoscenza e dalle azioni che tutti noi possiamo mettere in campo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!